Come abbiamo fatto per i mesi passati? Abbiamo deciso di fare un lavoro serio e rigoroso. Dobbiamo intercettare oggi quanti più positivi per evitare di chiudere domani. Questa è la scelta che abbiamo fatto e che credo abbia dato un risultato prezioso, importantissimo per tutelare la sicurezza futura del nostro territorio. Oggi comincia a ridursi il contagio di chi proviene dall'estero e dalla Sardegna. Abbiamo oggi, mentre vi parlo, 170 positivi, ieri 190. Un 40% rimane contagio proveniente dall'estero o dalla Sardegna, ma cominciamo ad avere una riduzione. Quindi oggi registriamo un prevalere, e questo prevalere continuerà nei prossimi giorni, di contagio territoriale. Sono quelli che non si sono segnalati alle ASL, quelli arrivati dall'estero prima del 12 agosto, qualche focolaio che emerge qui e lì. Questo significa che progressivamente noi dobbiamo spostare il personale, quelli che abbiamo impegnato dal 12 agosto, nell'operazione di controllo estero Sardegna, nei territori. Allora, a breve comincia il secondo piano di controllo del territorio regionale. Cominceremo cioè a fare di nuovo i controlli sulle residenze sanitarie assistite per anziani, sul personale sanitario degli ospedali, dei distretti per garantire la sicurezza degli ospedali, sulle forze dell'ordine, sul personale dei vigili del fuoco, sul personale pubblico più esposto e così via. Si aggiunge oggi il personale della scuola, ci vengo fra qualche minuto. C'è qualcosa di più. Noi dobbiamo cominciare a preoccuparci dell'epidemia influenzale che fra fine settembre e inizio ottobre comincerà ad emergere e dobbiamo preoccuparci del piano di vaccinazione. Quindi, oltre il piano di controllo normale che avevamo previsto di ripetere, dobbiamo prepararci ad avere un piano di vaccinazione non appena arrivano i vaccini anti-influenzali e prepararci ad arrivare a moltiplicare per due i tamponi, perché quando avremo l'influenza dobbiamo essere pronti a distinguere nel giro di poche ore quelli che hanno l'influenza da quelli che hanno il Covid, altrimenti avremo un'onda che si riverserà sugli ospedali e ci metterà davvero in grande difficoltà. Allora, in questo momento noi prenderemo una decisione definitiva e formale sull'apertura dell'anno scolastico all'inizio e la prossima settimana. Perché non abbiamo ancora preso una decisione formale? Perché in queste ore stiamo cercando di fare arrivare in Campania quanto più materiale possibile, banchi singoli, materiale igienico-sanitario, risorse necessarie per l'apertura in sicurezza dell'anno scolastico. Se avessimo deciso qualche settimana fa di ritardare l'apertura dell'anno scolastico non sarebbe arrivato niente in Campania. Chiaro? Decideremo comunque all'inizio del prossimo anno. La situazione ad oggi non mi pare tale da consentirci di aprire in tranquillità il 14. e poi non mi pare tale da consentirci.